Vitalizi, la Toscana taglia la rivalutazione per 184 ex consiglieri, prevista un'indicizzazione a scaglioni dall'1 al 3% anziché del 12%. Premio a una vita per la montagna, memoria al Gaetano Coppi, alla Betone la cerimonia di consegna del riconoscimento, omaggio speciale alla memoria di Zeno Colò. Vitalizi, sì del Consiglio regionale alla mitigazione dell'indice Istat. Il Consiglio regionale della Toscana taglia le percentuali di rivalutazione dei vitalizi dei 184 ex consiglieri regionali aventi diritto che si sono succeduti nella carica. È quanto prevede una legge uscita all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza e approvata dall'Aula del Consiglio regionale. Il motivo della sforbiciata è presto spiegato. L'applicazione del meccanismo di indicizzazione previsto dalla legge regionale 3 del 2009 porterebbe infatti a un sensibile incremento di spesa e a un adeguamento degli importi degli assegni non congruo, spiega lente, rispetto alle esigenze di sobrietà e risparmio. Detto in altre parole, se venisse applicato l'aggiornamento dell'assegno vitalizio ai 184 consiglieri in base all'inflazione all'11,8%, il Consiglio regionale avrebbe un aggravio di spesa annuo di circa 700 mila euro. Con la rivalutazione prevista dall'atto approvato, invece, le maggiori spese saranno pari a circa 90 mila euro annui. La riduzione avrà durata temporanea fino al termine dell'attuale legislatura, ovvero 2025, tra in particolare gli scaglioni individuati dalla legge. Si stabilisce un tasso di indicizzazione pari al 3% per i vitalizi inferiori a 1.500 euro, al 2% per quelli di importo tra i 1.500 e i 3.000 euro, all'1% invece per i vitalizi di fascia più alta, ovvero superiori a 3.000 euro. La Toscana è la prima regione italiana ad aver approvato una legge che limita temporalmente l'aumento dei vitalizi, commenta con soddisfazione il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Avremmo avuto un aumento di costo, visto che l'inflazione è stimata intorno al 12%, di circa 700 mila euro. Noi siamo invece la prima regione italiana ad aver approvato oggi, e ringrazio tutti i colleghi consiglieri, una legge che sostanzialmente limita temporalmente l'aumento Istat dei vitalizi. In più abbiamo approvato, anche questo all'unanimità, un ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare nella conferenza Stato-Regioni se è possibile proprio toglierlo definitivamente e azzerarlo. Questa è una valutazione che dipende dal rapporto anche con il Governo. Noi abbiamo fatto tutto questo perché in un momento di difficoltà in cui i cittadini, le famiglie, vivono, faticano ancora più del solito il calo energia, l'aumento dell'inflazione. Abbiamo voluto dare un messaggio, un messaggio forte, chiaro, che la Regione Toscana si è presa la responsabilità di ridurre un privilegio per pochi. Era l'unico strumento che avevamo a disposizione e lo abbiamo attuato in maniera molto chiaro. Tenete conto che con questa norma si risparmiano circa 600.000 euro di risorse dei toscani. Noi abbiamo lavorato con il legislativo, insieme all'ufficio giuridico, insieme al segretario generale per proporre una norma che in virtù anche di quelle che sono state le scelte, le decisioni in questi anni della Corte Costituzionale, tenesse conto di alcuni indirizzi che sono stati dati. Il primo è che la durata deve essere limitata nel tempo e noi abbiamo scelto una durata di tre anni. Il secondo punto è che ci sia progressività ed equità e lo abbiamo fatto perché abbiamo deciso di fare tre scaglioni. L'1% a chi ha un vitalizio superiore ai 3.000 euro, il 2% a chi ha un vitalizio tra i 1.500 e i 3.000 euro e il 3% a chi ha un vitalizio sotto i 1.500 euro. Permettetemi però di fare un appello ai colleghi, gli ex colleghi consiglieri. Noi con loro abbiamo parlato, abbiamo parlato a lungo in questi mesi. Io mi auguro che proprio sulla linea indicata dal Presidente Mattarella ci sia la possibilità che loro facciano un gesto forte e che decidano da soli di non richiedere neanche quell'adeguamento che noi abbiamo dovuto fare proprio per fare una legge che fosse, secondo noi almeno, non impugnabile. Insomma questo è un appello che chiedo a loro a nome di tutti i colleghi consiglieri. Il vitalizio sia un privilegio sempre, sia un privilegio ancora più sconveniente in un momento difficile, quale il contesto attuale dove ci sono tante ragazze e tanti ragazzi che non troveranno mai lavoro, ce ne sono tantissimi che lavorano magari di sabato, di domenica dopo scena per qualche centinaio di euro. Il mese troviamo sconveniente il privilegio del vitalizio. Lo troviamo una cosa disarmante chiedere l'aggiornamento secondo i dati Istat. Vengano aggiornati all'indice Istat le pensioni, gli stipendi, non è giusto che vengano aggiornati anche i privilegi. Quindi sono contento che il Consiglio regionale della Toscana oggi intervenga per ridurre un privilegio che è il vitalizio e per evitare che quel privilegio venga aumentato con la rivalutazione Istat. È giusto in questi tempi intervenire in questo modo per, ripeto, ridurre un privilegio degli ex politici. Tra parentesi, per fortuna, sono contento che l'attuale Consiglio regionale non riscuota il vitalizio. Mi sembra una cosa più che giusta e per lo stesso motivo ritengo giusto non aggiornarlo. Il vitalizio è uno strumento, lo abbiamo detto tutti in aula, ormai obsoleto e superato e forse figlio di un'altra era politica. Il problema è un altro. Il problema è che il vitalizio della regione toscana, e qui c'è un'anomalia, il vitalizio della regione toscana è un vitalizio che si rivaluta annualmente in base all'Istat. Quest'anno, con l'inflazione a oltre il 12%, vorrebbe dire rivalutare di oltre 750 mila euro il vitalizio degli ex consiglieri regionali. Ricordiamo a tutti che gli ex consiglieri regionali percepiscono il vitalizio perché durante la nona legislatura qualcuno ha pensato di fare il bello, in quel momento, il paladino dell'antipolitica, abolendo i vitalizi ma dimenticandosi di dire che li avrebbero aboliti a partire dalla legislativa successiva alla loro. Un primo capolavoro. Detto questo, a me è dispiaciuto che il Consiglio regionale abbia dovuto legiferare per impedire che si rivalutassero i vitalizi del 12%. Mi è dispiaciuto perché stiamo parlando di vitalizi che prendono degli ex amministratori, degli ex consiglieri, cioè persone che in vita loro hanno amministrato e governato la nostra regione, che sanno cosa significa governare in momenti drammatici per il Paese come questo, anche se forse in vita loro hanno governato in momenti più floridi, ma sanno cos'è un operaio che protesta sotto la regione perché perde il lavoro, uno studente che protesta, una ditta che chiude, una RSA che si lamenta, lo sanno benissimo. E loro avrebbero dovuto fare una cosa semplicissima, seguire l'esempio del Presidente della Repubblica, della massima carica dello Stato italiano, che ha rinunciato all'adeguamento della propria pensione e del proprio vitalizio e fare lo stesso. Avrebbero dovuto rinunciare loro, invece anziché rinunciare hanno inviato una lettera dove si paragonavano ai pensionati italiani chiedendo un adeguamento perlomeno pari a quello che il Governo nazionale aveva previsto per le pensioni minime in Italia. Penso ci sia grande differenza, grandissima differenza tra un pensionato che percepisce la pensione minima e un privilegiato come noi che ha avuto fortuna di guadagnare tanti soldi dalla politica in vita propria. Sì, una scelta giusta, una scelta difficile, però il coraggio di un gruppo dirigente, questo che oggi è in Consiglio regionale, di chi ha guidato questa trattativa, abbiamo avuto il coraggio di andare a ridurre l'importo dei vitalizi alle persone che prima di noi hanno amministrato la Toscana, forse è stato per me avremmo potuto anche eliminare, ma sicuramente andremo in questa direzione perché c'è un impegno congiunto delle forze politiche che va verso il superamento della rivalutazione Istat, intanto il coraggio di togliere 600 mila euro che saranno destinate invece ai cittadini toscani, al mondo delle associazioni, alla cultura, ai giovani, a tanti progetti che possiamo fare. È assurdo pensare che nel mondo di oggi persone che vivono di un privilegio potessero ancora pensare che questo privilegio potesse essere anche rivalutato. Abbiamo fatto il massimo, siamo l'unica regione in Italia che ha avuto questo coraggio di farlo, credo che si possa andare oltre rispetto al superamento dello stesso strumento, ma intanto oggi una bella pagina toscana dove tutti i gruppi politici, indipendentemente dall'appartenenza, hanno condiviso l'idea di chiudere una stagione, quella dei privilegi del passato, quanto noi come amministratori non abbiamo questo privilegio, è corretto che sia, questo ci consente di andare a testa alta dai nostri cittadini, sia questa legislatura che quella precedente, male avevano fatto in passato invece a pensare di mantenerselo per sé, pensare di rivalutarselo e poi a quelli dopo togliere. Hanno fatto bene a toglierlo a noi, ma noi facciamo bene ad eliminare il livello della rivalutazione. Assolutamente sì, è un privilegio dovuto da chi in passato aveva deciso di legiferare questo, è logico che oggi di fronte a un'inflazione come questa, di fronte a un momento difficile come questo, la prima cosa sarebbe stata quella di chiedere proprio ai beneficiari di questo vitalizio di rinunciare. Così ci aspettiamo magari una risposta anche da loro, nel frattempo però il Consiglio regionale ha dato un messaggio, un messaggio quello di dire che fermo restando il vostro vitalizio ma la rivalutazione dell'Istat è quella, pensiamo che dovesse essere con più contenuta. Per questo era l'unico strumento che ci poteva permettere di arrivare a questo obiettivo. Il mio ordine del giorno, intanto ringrazio tutti i capogruppo perché lo hanno controfirmato permettendomi appunto di poterlo discutere in aula, è quello di andare nei prossimi semestri, di dare mandato al Presidente Gianni nell'accordo Stato-Regioni, di portare avanti proprio questa nostra iniziativa e cioè quello di togliere definitivamente non il vitalizio perché quello non possiamo, ma la rivalutazione Istat. Al tempo stesso, nel momento in cui dovesse esserci parere favorevole, andremo a rivisitare anche la legge regionale del 2019. Questo, visto che la Regione Toscana spesso e volentieri è stata promotrice di grandi iniziative nazionali, ci auguriamo che questo il nostro Presidente lo porti veramente a casa proprio perché riteniamo che sia una cosa giusta nei confronti ad esempio delle pensioni che non hanno tutti questi privilegi. Una scelta importante che tiene conto del quadro economico-sociale che i cittadini stanno vivendo negli ultimi mesi e che quindi va proprio incontro a un'esigenza di razionalizzazione dei costi della politica. La Regione Toscana è l'unica regione italiana che ha deciso di ridurre l'indicizzazione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. È noto che i consiglieri regionali non godono più del vitalizio, sono rimasti in piedi i vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla nona legislatura compresa. Poiché c'è una norma che impone l'adeguamento di questi vitalizi agli indici Istat, oggi la Regione Toscana ha deciso di ridurre sensibilmente questo incremento e lo ha fatto ancorandosi a dei parametri che si avvicinano in alcuni casi allo zero, proprio per far sì che questo incremento sia da una parte rispettoso del dettato legislativo che ci impone a livello nazionale un adeguamento degli importi dei vitalizi, ma dall'altra parte che sia quanto più possibile contenuto. Una scelta importante che altre Regioni non hanno fatto e che comporterà una riduzione di costi della politica sensibile per la Regione Toscana. Se infatti nulla si fosse fatto a livello legislativo avremmo avuto per i prossimi tre anni, ragionando del bilancio di previsione 2023-2025, un incremento annuo di costi vicino a 750 mila euro all'anno. In questo modo i costi si riducono a circa 90 mila euro all'anno, quindi con un risparmio sensibile che si avvicina ai 650 mila euro all'anno. Un segnale importante che la Regione Toscana e il Consiglio regionale intende dare ai cittadini toscani in un momento di profonda crisi come quello che stiamo vivendo, un segnale di contenimento dei costi della politica. Certamente la scelta che è stata fatta potrebbe anche ingenerare dei rischi da parte di coloro che avrebbero diritto ad un vitalizio rivalutato con gli indici Istat. Politicamente il Consiglio regionale e questa maggioranza si sono assunti la responsabilità di una scelta che va invece verso la riduzione di questa indicizzazione. Devo dire che da un punto di vista giuridico normativo abbiamo avuto in sede soprattutto di lavori di commissione il conforto da parte di tutti gli uffici che l'operazione che è stata posta in essere è perfettamente legittima e non ha quindi profili di contrasto con la normativa nazionale. Forti di questi speriamo di non avere conseguenze negative e chiaramente il mio vuole essere anche un appello a tutti coloro che godono di questi vitalizi a non calcare la mano su questo tema perché credo che i cittadini toscani in questo momento non capirebbero un atteggiamento di tipo diverso. Alla Betone le celebrazioni per una vita per la montagna. La montagna toscana si prepara ad iniziare una nuova stagione lo fa proponendo la nuova edizione del Memoria al Gaetano Coppi premio una vita per la montagna che viene assegnato a un personaggio il cui operato abbia aggiunto valore alla promozione del territorio montano e che ricorda il compianto presidente della federazione italiana sport invernali dal 2000 al 2006. La cerimonia si è svolta l'8 dicembre nei locali della palestra di Abetone a ricevere il premio un cittadino del comune di Abetone Cutigliano e uno proveniente da altra residenza. Per la prima categoria il premiato è stato Luciano Seghie vincitore di tre titoli italiani e della Coppa Nebrun azzurro negli anni 1962-63. Mentre per la seconda Lino Zani maestro di sci alpinista per anni consulente del ministero per gli affari regionali in materia di montagna. Un terzo premio è stato consegnato alla memoria di Zeno Colò in occasione del settantesimo anniversario della medaglia d'ora alle Olimpiadi di Oslo, ricorrenza che è stata celebrata anche con la posizione di una targa al Museo dello Sci di Abetone, nato per valorizzare le risorse ambientali, artistiche e culturali della montagna pistoiese. Il Consiglio regionale ha voluto nel settantesimo anniversario della vittoria olimpica di Zeno Colò, unico italiano a aver vinto la medaglia d'ora in discesa libera, al 70 anni di distanza ha voluto inserire Zeno Colò tra i personaggi storici della regione toscana. Quindi in questa serata dove verrà assegnato l'annuale premio Una vita per la montagna Memorial Gaetano Coppi scopriremo anche una targa che il Consiglio regionale dona a Zeno Colò e che verrà posta dentro il Museo dello Sci di Abetone. Il premio Una vita per la montagna Memorial Gaetano Coppi è parte delle manifestazioni del calendario dell'anno di Abetone Cutigliano Città Toscana dello Sport 2022 sotto legida del Consiglio regionale della Toscana. Credo che Abetone possa assolutamente avere il nome e avere la possibilità di fare un premio come Una vita per la montagna perché Abetone è la montagna, è la montagna in Italia, è la montagna anche nel mondo perché ha fatto sì che nascessero tantissimi campioni nella nostra località, pertanto credo che un abbinamento meglio di questo non ci potrebbe essere. Oltretutto oggi andiamo a premiare anche un simbolo, un simbolo perché ha unito quello che è stata l'attività sportiva con quella che è stata l'attività imprenditoriale ed è un simbolo anche perché il premio, il Memorial Gaetano Coppi che oggi viene assegnato a Luciano Seghi è ancora di più significativo. Luciano è stato grande amico, grande compagno nelle gare agonistiche ma anche grande compagno nell'attività imprenditoriale perché insieme a Gaetano Coppi ha aperto la seggiovia del Pulicchio e per molti anni ne è stato appunto sempre assieme a Gaetano il principale motivatore, il principale esponente per cui veramente oggi credo che Abetone premi un personaggio che ha assolutamente rilevanza e poi insieme a lui Lino Zani, Lino Zani è stato il maestro di sci di Papa Voitiva, è oggi uno dei volti della montagna avendo e conducendo il programma Linea Bianca e poi è stato direttore della fondazione della montagna e è la montagna anche lui per cui migliore giornata per premiare due personaggi di questo tipo, oggi Abetone non poteva esserci. Abetone non poteva esserci.